All'Università di Perugia incontri settimanali per progettare interventi in Africa, America Latina e Balcani, realizzata l'idea di una organizzazione non governativa. Partono anche dall'Umbria azioni di cooperazione internazionale che hanno per obiettivo la sovranità alimentare delle popolazioni che vivono nei paesi dell'area subsahariana. Vi raccontiamo l'esperienza di TAMAT, una ONG che sta formando in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche i futuri progettisti in questo settore. Andrea Chioini. Nuovi metodi agroecologici per l'orticoltura in Burkina Faso e Mali. Formazione microcredito per le donne che coltivano, distribuiscono, trasformano i prodotti aprendo microimprese, artigianato e ristorazione per poter vivere dignitosamente nella terra dove sono nate e dove crescono i loro figli e le loro bimbe. Questo è l'obiettivo del progetto Rasa, rete d'acquisto per la sovranità alimentare. Sono idee che arrivano dall'Umbria dove è nata vent'anni fa TAMAT, organismo non governativo con sede nel capoluogo di regione. Una delle attività è anche quella di formare i quadri del futuro per la cooperazione internazionale. Ecco allora il laboratorio in corso a Scienze Politiche di Perugia in collaborazione con la Cattedra di Promozione Sociale e Interculturale. L'attività didattica, elaborata insieme al Centro per la Pace di Assisi, è condotta da esperte di TAMAT. Patrizia Spada, Denisa Raluca Savulescu e Simona Formica spiegano gli elementi necessari all'elaborazione dei progetti di cui è punteggiato l'itinerario della ONG Perugina, itinerario che tocca Africa, America Latina e i Balcani. Cinque incontri tutti i giovedì di maggio che potrebbero fare da prologo ad esperienze di stage e tirocinio.